Ok, oggi andiamo a completare la parte relativa a un'applicazione della legge sull'induzione elettromagnetica di Fara di Neumann Lenz e fatemi riaprire gli appunti della volta scorsa così vediamo bene, facciamo un ripasso di quello che stiamo parlando. Abbiamo visto come si arriva a formulare la legge di induzione, la forza termotrice indotta è uguale all'opposto della derivata del flusso del campo elettrico attraverso la superficie A che è il bordo del nostro circuito rispetto al tempo. Abbiamo visto l'esempio della moto della barra in orizzontale e oggi invece affrontiamo il moto della barra in verticale. Abbiamo un circuito AU con la resistenza R e la barra conduttrice qui orizzontale a contatto con i rami verticali del circuito che è incaduta nel campo magnetico B omogeneo qui in verso entrante. Sulla barra agiscono due forze, una la forza peso e una la forza magnetica dovuta al fatto che all'interno della barra passa corrente. E passa corrente perché essendo l'area che il circuito racchiude è variabile, il flusso attraverso quest'area cambia, quindi c'è una forza termotrice indotta e quindi c'è una corrente indotta. Velocizzo un po' il passaggio e andiamo a formulare la legge che riguarda la forza magnetica che agisce sulla barra che è opposta alla velocità di caduta della barra ed è proporzionale a una costante che è L quadro su B quadro su R per il vettore velocità. La forza risultante quindi in questo punto è peso più forza magnetica, proiettando questa in verticale abbiamo che l'accelerazione con cui cade la barra, che è la derivata della velocità, viene ad essere uguale a meno G, accelerazione di gravità, meno questo L quadro B quadro su MR per V. Abbiamo visto che questa costante ha dimensioni di un universo di un tempo, quindi andiamo a studiare il moto di questa barra sottoposta a queste forze. Ok, quindi questa è l'equazione chiave che ci permetterà di costruire il motore che manda avanti la simulazione. Detto questo, questo lo lasciamo in sospeso, ok. Apriamo la cartella che dovreste aver scaricato e scompattato, che si chiama EJS 5.3, quindi la versione 5.3. doppio clic su EJS console e si apre la finestra di lavoro di EJS, qui ci dice che non è aggiornabile, non ci importa. Ecco la nostra finestra di lavoro, la ingrandisco un po', e qui abbiamo che l'area di lavoro è divisa principalmente in due finestre. Questa principale, grande, su che andiamo a lavorare, e sotto l'output c'è la finestra dove EJS ci darà messaggi, ci avvertirà se abbiamo fatto degli errori, se le cose sono andate bene e via dicendo. La pagina di lavoro principale è divisa in tre parti, che sono le tre fasi del lavoro. La prima descrizione, che è equivalente a un testo, dove andiamo a scrivere quello che descriverà la simulazione stessa. Questa di solito è una cosa che è bene fare alla fine, perché dopo che ho fatto la simulazione è meglio che riassumo cosa fai e cosa non fa la simulazione e do le istruzioni. Qui per creare la pagina basta fare un clic, dobbiamo dargli un nome, chiamiamo la introduzione, qui tutti i comandi sono in inglese, non esiste la versione in italiano, ma non ha importanza. Siamo qui, scriviamo la descrizione della simulazione e le istruzioni. Si può anche mettere l'autore, eccetera, e le referenze. Questo è proprio una foglia di testo. Quando questa barra dei comandi è abilitata, si può andare a cambiare il testo, se io clicco su questa mannina, questa sparisce e il testo non lo cambio più. Qui, appunto, si può fare, questo è solo un foglio di testo. La prima area importante è quella del modello, la seconda. Andiamo a cliccare su questa, e in questa area, nell'area modello, è l'area dove andiamo a fare i calcoli. C'è dove andiamo a istruire Java su che variabili ci servono e che calcoli fare. Anche qui ci sono diverse sezioni. C'è una sezione variabile che è la lista della spesa, cioè che cosa andremo a utilizzare. Java ha bisogno che gli si dica in anticipo che cosa serve, che cosa sarà coinvolto nei calcoli. Ok? Come per fare la torta ho bisogno di fare l'elenco degli ingredienti. Ok? E cominciamo. Clicchiamo con un clic sulla pagina principale, si dice come chiamarla. Boh, io la chiamerò dinamica. Boh, un nome va all'altro, eh. E qui facciamo la lista delle grandezze, che è divisa in diverse colonne. C'è il nome, il valore iniziale e il tipo di grandezza. Double sta per tutte le grandezze numeriche con la virgola. Altrimenti c'è Integer se sono numeriche ma senza virgola. Boolean se sono variabili logiche, vero o falso. Le useremo tutte quante. Allora, qui iniziamo con la nostra lista delle variabili. La prima e più importante, che non manca mai in una simulazione, visto che la simulazione non è altro che una successione di fotogrammi, è il tempo t. Chiamiamo questa t, scrivo t piccolo, e il suo valore iniziale parte da 0, 0.0. Ok? Attenzione a mettere anche il punto decimale, perché senza punto diventa una variabile intera. Ok? Quel punto è una variabile reale in doppia precisione, da cui w. dopodiché il secondo, la seconda variabile è altrettanto importante. Perché? Beh, immaginate la simulazione come un filmato, come un vero e proprio cartone animato. In un film, che cosa succede? C'è una successione di immagini, di fotogrammi, ciascuno statico, ma sono mostrati in rapida successione, per cui l'occhio percepisce un movimento. Ok? Come in un film qualsiasi. Però il tempo etichetta ciascun fotogramma, ma mi serve anche sapere quanto è il salto temporale da un fotogramma al successivo, e questo è dt, la seconda variabile. Quindi il delta t tra un fotogramma e l'altro, chiamiamolo dt, e nelle nostre unità andiamo a indicarlo con 0.02, cioè due centesimi nel nostro caso di secondo. Ok? Dopodiché, la nostra barra avrà una posizione. Vi ricordate il foglio degli appunti di prima? La posizione della barra è una posizione verticale, quindi andrò a chiamare la coordinata posizione della barra Y. E diciamo che comincia da 0. Anche questo, il punto di partenza sarà 0. Dopodiché, mi serve la velocità della barra, VY. La barra parte da ferma, quindi anche questa sarà 0. E la barra è sottoposta al moto di accelerazione gravitazionale, quindi G. E sappiamo che G vale 9.81 m2. Dopodiché avremo l'accelerazione nel senso verticale, quindi Ay inizia a un valore iniziale che è l'opposto di G, come abbiamo visto la volta scorsa dalla trattazione teorica. Poi ci sarà una grandezza che individua la massa della barra, diciamo che vale un chilogrammo. La resistenza del nostro circuito, R, diamole anche qui un valore semplice di 1 Ohm, 1.0 Ohm. La lunghezza della barra, L, L maiuscolo, diamole un metro. Poi cos'altro ci serve? Beh, ci servirà il campo magnetico, B. B diciamo che vale un Gauss, c'è un Tesla, anche se è un po' tanto, ma insomma diamo un numero semplice. Poi mi servirà una scala orizzontale del nostro campo dove andremo, la zona dove dovremo assimilare il nostro circuito, chiamiamolo H, altezza. E se la larghezza era 1, qui mettiamolo uguale a 10. In realtà un numero va all'altro, un numero ragionevole. Dopodiché dovremo calcolare la scala di tempi, il famoso tau, chiamiamolo tau, e qui potremo anche non dargli un valore, lasciamo un valore 0, dopo però dovremo calcolarlo, perché va calcolato in funzione di mlr. D'accordo? E basta, più o meno abbiamo inserito tutto. Dopodiché andiamo nella seconda etichetta, initialization, ci risolvono il problema, perché qui, in questa pagina, vengono eseguiti dei calcoli che servono per dare il valore iniziale alle nostre variabili. Nel caso specifico nostro, la cosa che ci interessa calcolare è il valore di tau, appunto, che qui non abbiamo calcolato perché non c'è spazio per farlo. Quindi andiamo nella seconda pagina, clicchiamo per creare la pagina, chiamiamola, che ne so, lasciamo anche inizializzazione. Ma ripeto, un nome va all'altro, deve essere qualcosa che mi aiuta a ricordare. E qui scriviamo un codice in Java. Ora, è sempre bene inserire dei commenti del testo che ci dica cosa stiamo per fare. Per inserire un commento, cioè dire a Java guarda che quello che c'è a destra non devi ignorarlo perché è un commento, si usa la doppia barra che qui viene visualizzata in rosso per comunicarci il fatto che è un commento. E qui scriviamo un testo. Calcola il valore il valore con la L di tau la costante temporale. E adesso andiamo a scrivere l'espressione, la riga di comando, la stringa di comando per calcolare il valore di tau come abbiamo visto negli appunti. Allora, funziona così. Ma, insomma, voi fate già il corso di informatica quindi questa cosa non vi è sicuramente nuova. In informatica quando devo fare un'istruzione di calcolo comincio mettendo a sinistra il risultato del calcolo. Nel nostro caso la grandezza tau. E questa è uguale a che cosa? La massa, M, moltiplicata, quindi asterisco, per il valore della resistenza, R, diviso il quadrato di L per B, cioè in L quadro B quadro. Per inserire il quadrato in Java si usa la funzione mat.p O, W, sta per Power. Eccola qua. E si apre una parentesi e la prima cosa che metto è la base della potenza che nel nostro caso era L moltiplicato per B. Dopodiché virgola e dopo segue l'esponente che è 2. questo mat.paw parentesi L per B2 significa fai il prodotto L per B ed elevalo alla seconda. Poi chiudo la parentesi punto e virgola. Il punto e virgola mi serve per comunicare a Java che ho finito l'istruzione. L'istruzione di calcolo si chiude qui. E questo quindi ci permette di dire abbiamo calcolato il valore di tau con i dati già in possesso del computer che abbiamo comunicato nella pagina variabili. Fatto questo passiamo alla pagina successiva la pagina evolution che è quella dove risiede il cuore del nostro algoritmo della nostra simulazione cioè nella pagina evoluzione c'è la procedura per dire come passare da un fotogramma al successivo ok come avviene l'evoluzione appunto il moto del nostro sistema. Prima di fare questo però passiamo a Fixed Relations l'evoluzione la facciamo per ultima. Qui che cosa per crearla basta fare un click lasciamo il nome che dice lui non c'è problema. Qui che cosa ci serve? Beh la utilizziamo per quello che c'è in contenuto in questa pagina è una serie di calcoli che Java fa per ogni fotogramma ogni volta che avanza da un fotogramma successivo fa questi calcoli quindi aggiorna se volete le variabili. Che cosa potremmo mettere qui? Beh qui ci serve mettere per esempio il calcolo dell'accelerazione è più comodo qui calcola l'accelerazione abbiamo già visto che ay se vi ricordate l'equazione che governa il nostro motore è uguale a meno g meno vy fratto tau questa è la nostra equazione ok qui diamo quel punto in virgola e questo chiude le nostre istruzioni poi qui torneremo su questa pagina ma insomma ma questo ve lo dirò più avanti detto questo andiamo in evolution e qui ci dice da due possibilità la pagina è divisa in due metà nella parte superiore se clicco sulla parte superiore chiedo a ce lo faccio se ho intenzione di scrivere io stesso l'algoritmo con cui calcolare l'evoluzione temporale se invece voglio che se ne occupi java meglio ajs clicco sulla parte inferiore la parte inferiore mi permette di inserire un'equazione differenziale ordinaria o di e ordine di differential equations di cui io scrivo l'equazione e poi è già ajs che si incarica di risolverla ok che è la tecnica che usiamo oggi clicchiamo una volta sulla pagina sotto chiamiamola evoluzione non c'è problema e la pagina si è presente in questo modo ogni riga è un'equazione differenziale a sinistra c'è la derivata di quello che vogliamo noi e a destra c'è il valore della derivata d'accordo ci chiede qual è la variabile indipendente cioè derivata rispetto a cosa ovviamente mettiamo t vedete che sotto appare di t adesso e poi c'è l'incremento cioè il passo temporale qui c'è 0.05 noi mettiamo il nostro dt che abbiamo definito a suo tempo all'ingresso perfetto qui la prima equazione differenziale che utilizziamo sarà la derivata della velocità quindi qui mettiamo vy ok e a destra potremmo andare a mettere per esempio ay che ha calcolato nella pagina delle relazioni fisse anche qui va bene oppure possiamo ripetere come vogliamo meno g meno vy fratto tau è la stessa cosa sotto siccome vogliamo anche la posizione della barra perché per riuscire a raffigurarla nella simulazione dobbiamo sapere dove sta abbiamo bisogno di un'altra equazione differenziale è quella che lega velocità e posizione quindi la derivata rispetto al tempo della posizione y è uguale a vy vy la trovata risolvendo l'equazione precedente quindi queste se volete sono due equazioni accopiate dove la soluzione della prima è l'incognita della seconda ok poi c'è un'altra grandezza importante questo fps e frame per second questo 20 significa che quando la simulazione sarà in run in attiva ogni secondo EJS calcolerà costruirà 20 fotogrammi ok più questo numero è passo ok più il moto sarà sgranato più è alto più il moto sarà fluido corrente però più lungo sarà l'elaborazione ok e poi è segnato e cliccato che questo autoplay c'è la spunta questo significa che non appena apriremo la simulazione la manderemo in run cioè cliccando sul tastino verde qua a destra la simulazione già parte ok adesso vedremo dopo cosa come lo cambieremo e a questo punto abbiamo finito la parte di calcolo è conclusa se ci sono errori adesso ce lo dirà andiamo a salvare quanto abbiamo fatto fino adesso utilizzando il tastino a destra nel menu nella barra dell'icona dei comandi save to file cliccando una volta su questo ce lo salva nella cartella source della workspace e diamogli un nome lasciamo la parte lasciamo stare il punto ejs che deve esserci cambiamo unnamed con moto della barra in campo magnetico un nome insomma che ci ricordi qualcosa salviamo con un clic e via ok dice che esiste già lo chiamiamo un altro barra in campo magnetico che l'avevo già fatto ieri per prova ok adesso lo chiama moto della barra in campo magnetico perfetto l'abbiamo salvato per mandare in esecuzione il programma devo cliccare su questa freccetta verde ok quando lo clicco questa diventa rossa e sotto mi dice se il programma sta andando o no dice congratulazioni la simulazione è stata prodotta con successo e sta andando avanti però ovviamente non fa niente perché non gli abbiamo dato nessuna istruzione grafica quindi fermo l'esecuzione ricliccando sul tasto rosso e andiamo a completare la simulazione andando nella finestra view in questa finestra sono contenute tutte le cioè java e js ci mettono a disposizione tutti gli strumenti per graficare cioè per rendere visibili gli elementi che abbiamo utilizzato nella fase di calcolo ok qui c'è già un evento un oggetto il simulation view che è l'ambiente nel quale la simulazione andrà a essere graficata cioè il nostro schermo ok ma se devo fare un disegno se devo mostrare qualcosa mi serve ovviamente qualcosa su cui fare il disegno in particolare che ne so un quaderno per se dovessi scrivere una cornice per far questo ho a disposizione questi strumenti grafici che ci sono qua nella colonna di destra e sono raggruppati in tre in tre aree diverse l'area interfaccia i tracciabili a due dimensioni e i tracciabili a tre dimensioni la prima cosa che andiamo a inserire sarà una cornice per la nostra simulazione qui sopra avete che abbiamo diverse sezioni andiamo nella seconda finestre e andiamo a prendere la prima che è il fotogramma frame lo clicco una volta trascino il mouse senza schiacciare niente in simulation view clicco una volta e quindi mi dice dargli un nome direi moto della barra in campo magnetico questo quello che scrivo qui è quello che verrà visualizzato nella finestra nel nostro frame una volta che sarà prodotta quindi clicco su ok e vedete già che me la crea qui in alto a sinistra spostiamo questo a destra ecco qui mi ha già prodotto la cornice il contenitore la finestra dove andrò a visualizzare la mia simulazione se faccio doppio clic su questo frame mi mostra le proprietà così apre questa finestra mi mostra le proprietà qui c'è il titolo image possiamo stare layout cioè che tipo di struttura ha siccome andremo a mettere diverse cose in questo frame anziché border pura cornice andiamo a dargli una struttura di vertical box questo lo faccio semplicemente cliccando sul primo bottone il bottone di editor e scelgo vertical box è visibile sì la posizione è già scelta lui le dimensioni invece non mi vanno bene lo voglio un po' più grande invece che 300 e 300 il primo numero sono dimensioni orizzontali il secondo verticali dobbiamo scegliere 600 vedete che già l'ho allargato e verticalmente 700 lo voglio un po' più grandino ecco fatto vedete che abbiamo già una cornice piuttosto ben più visibile in questa cornice dobbiamo mettere quello che ci interessa per poter fare la simulazione se dovessi mettere una cornice realmente ci metterei dentro un foglio un pezzo di carta una fotografia e quindi nel nostro caso java ci propone questo oggetto qui cioè un pannello disegnabile un join panel lo clicco una volta lo trascino senza cliccare il mouse fino vedete che si trasforma in una bacchetta magica che indica che sto per creare qualcosa e metto ogni volta che creo un oggetto nel contenitore nel quale questo è previsto che verrà a trovarsi quindi dentro la mia cornice clicco una volta clicco una volta e mi dice creiamo il join panel vabbè lasciamo lo join panel non mi dispiace sto nome dico ok e adesso vado a a a fare doppio click per per visualizzarne le caratteristiche ok eccolo qui qui l'auto scale è su false cioè una volta che in questo modo le dimensioni del nostro pannello grafico rimangono costanti e posso anche cambiarle in automatico in quel caso cambiano a seconda della simulazione ma questo in questo caso non ci interessa lasciamole così e poi ci dice che quali sono le coordinate dei vari estremi della nostra area grafica x la coordinata orizzontale y sono quelli verticali qual è la minima x beh la minima x lasciamola pure a meno 1 quella massima più quella più a destra beh dipende dovrà essere tale che contiene la nostra l la nostra barra quindi lasciamola un po' più grande di l facciamo per esempio 1.1 per l quindi il 10% più grande di l e va bene attenzione se io qui modifico quindi se io qui cancello l per scrivere qualcosa lo sfondo del riquadro diventa giallo quando è giallo significa che java si aspetta che io scrivi qualcosa che completi se scrivo qualcosa di corretto come l grande va bene se scrivo qualcosa di sbagliato come l minuscolo per esempio che non ho mai definito e la barra diventa rossa che mi dice guarda che hai scritto qualcosa che non hai definito puoi usare tutte e solo le variabili che hai già messo nell'area model nel menu variabili iniziale ok e l piccolo non c'era c'è l maiuscolo e quindi l maiuscolo funziona poi abbiamo la stessa cosa in y la minima y che sarà quella più in basso beh quella più in basso dovrà contenere tutta la scala orizzontale quindi diciamo che sarà il 50% in più in più di di h quindi 1.5 volte h ok quella la massima quella più in alto mettiamola di poco più grande di h 0,2 volte h che potrebbe andare bene ma qui insomma si può andare che a tentative poi si vede cosa succede il resto è tutto a posto possiamo anche chiudere questo definisce la nostra area tracciabile attenzione se mi serve sapere le coordinate di un punto è sufficiente che ci vada sopra col mouse clicco e vedete che in basso a sinistra mi appaiono le coordinate di quel punto questo è molto comodo ok abbiamo disegnato abbiamo inserito la carta su cui fare il grafico ok che elementi andiamo a tracciare sul nostro pannello beh la prima cosa è come vi ricordate fatemi riaprire per esempio il 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 nostro disegno avevamo disegnato la 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 resistenza eccola qua in alto quindi andremo a disegnare la resistenza in alto ok per far questo vado a prendere nel seconda area di oggetti grafici i tracciabili in 2D questo che qui in realtà loro lo chiamano una molla perché è la stessa forma ma noi lo interpretiamo come resistenza ci clicco una volta sopra ok sposto questo mi identifica quindi questo oggetto lo sposto col mouse e lo metto non nel frame ma nel join panel clicco una volta e lo chiamo resistenza ok lui me lo grafica me lo mostra già all'interno lì un po' compresso un po' compatto andiamo col doppio clic a visualizzare le proprietà dove lo vuoi posizione in 0 beh lo vorrei al centro del nostro in alto al centro del nostro riquadro diciamo tentativamente una posizione meno 0.1 volte L in X quindi lo spostate un po' a sinistra che ci va bene e in Y anche sarà più o meno lo stesso 0.1 per H ricordando che H è la scala verticale ok dopodiché le dimensioni in X saranno la lunghezza L della barra che però qui è un po' troppo grande mentre in Y non 0 perché la voglio tutta quanta orizzontale qui è un po' troppo grande ci va fuori diciamo la scaliamo a metà questo è solamente un fatto grafico eccola si vede bene la nostra resistenza ma il tracciato è un poco fino mettiamole una linea una spessore di linea a 3 ecco così la vedo molto meglio d'accordo tutto il resto possiamo lasciarlo con me chiudiamo la nostra resistenza ma dopodiché ci servono le parti verticali del filo delle barre verticali queste le andiamo a prendere sempre nella nostra area di tracciabili in 2D e sono questo il segmento quello che è la seconda icona clicco una volta e vado a cliccare a mettere sul pannello grafico sul join panel questa la chiamo boh bar segmento segmento 1 e doppio clic su segmento me lo disegna là dove più vi fa comodo adesso andiamo a riposizionarlo qual è la la posizione in x beh la posizione in x sarà quella dell'estremo inferiore della nostra resistenza quindi proviamo un meno 0.1 per l e in y una cosa analoga a quella che abbiamo scritto prima era meno 1.5 facciamo meno 1.1 per h poi le dimensioni le vogliamo tutte verticali quindi 0 in x e in y pari ad h eccolo qua anche qui la tracciata è piuttosto sottile andiamo a inspessire il tracciato diciamo che line width è 3 ecco così lo vedo molto meglio ok dopodiché ne farò un altro per l'altro lato che sarà l'analogo di questo ma con la posizione x diversa quindi vado su segmento 1 clicco su copia poi vado sul drawing panel clicco su incolla e ottengo un altro segmento questo lo chiamerò con rename eccolo qua segmento 2 ok doppio clic effettivamente me lo fa sopra quello di prima perché è identico cambio solo la posizione in in x anziché 0 meno 0 1 diciamo più quindi niente meno 0 4 potrebbe bastare sì ok ecco abbiamo il segmento verticale quindi abbiamo il circuito a forma di u perfetto cosa ci manca beh ci manca la barra conduttrice quindi un altro segmento vado a cliccarlo dal tracciabile in 2d lo incollo sul drawing panel e lo chiamo barra ok doppio clic su barra le posizioni in x beh vorrei che fosse centrato dove c'è la resistenza inizialmente quindi 0.15 l per esempio e in y una cosa di analgo meno 0. 0. c'è solo un secondo quindi y sarà ovviamente la coordinata y nella barra mi dice dov'è e le dimensioni in x se fosse l sarebbe troppo lungo diciamo 0.6 volte l ok e in y 0 perché lo voglio tutto orizzontale qui è un po' troppo a destra proviamo a cambiare il segno ok bene giusto è solo un po' più in basso ottimo e qui però lo voglio più spesso 3 e lo voglio colorare in verde diciamo così ecco fatto adesso qui abbiamo la nostra barra orizzontale quella conduttrice che poi si muoverà perché avrà una posizione y che verrà aggiornata dalla nostra simulazione ok poi sarebbe bene mettere come abbiamo fatto nella figura sugli appunti un qualcosa che ci dica che c'è un campo magnetico ricordate quelle le crocette quindi inseriamo per esempio una un tondino qui con la crocetta alla fine che ci dica che c'è un campo magnetico entrante anche in questo caso andiamo a prendere un tracciabile 2D che però è la prima delle varie icone mettiamola sempre nel join panel mettiamo campo B la chiamiamo campo B ok e doppio click dove la posizioniamo beh più o meno al centro e in y anche 0.5 per h le dimensioni in x saranno supponiamo un 0.2 per l qui si va tentativi poi uno vede se gli va bene o no e 1.4 per l ecco un tondo andiamo a dargli un colore proviamo a farlo giallo e con eccolo qua con un tondo con la crocetta in mezzo ecco qui questo simboleggia il fatto che il campo magnetico è entrante questa icona questo oggetto grafico ci serve ricordarci che è presente anche un campo magnetico ok qui c'è l'essenziale c'è tutto proviamo a salvare d'accordo facciamo salva cancello l'area di grafica e andiamo in run andiamo in esecuzione clicco sul pulsante verde e se non ho fatto errori dovrei avere la mia barra che cade verticalmente eccola qua ok solo che come vedete quando esce dal nostro frame non la vediamo più e inoltre parte subito non ci dà la possibilità di azionare la simulazione allora torniamo indietro interrompiamo la simulazione cliccando sul tasto rosso verde il tasto rosso che diventa verde e andiamo a modificare la nostra simulazione in questo modo anziché che la simulazione parte cioè che il nostro cronometro scatti non appena azioniamo la simulazione vogliamo avere dei comandi che ci permettano per esempio di mandare la simulazione in esecuzione di metterla in pausa oppure di riportarla all'inizio per far questo inseriamo un menu con i comandi con i comandi quindi andiamo a prendere un altro contenitore da affiancare al join panel quindi nell'interfaccia selezioniamo il pannello questo qui il panel il pannello generico di contenitore vuoto un basic container appunto lo andiamo a mettere non nel join panel ma nel frame da questo chiamo questo pannello comandi ok e doppio clic su pannello comandi clic layout e bordem lo cambieremo dopo vado a vedere le dimensioni saranno 600 in orizzontale come abbiamo visto prima e mettiamo un 50 in verticale d'accordo qui all'interno di questo pannello andiamo a mettere dei bottoni dei veri e propri tasti comando che ritroviamo nella terza etichetta della nostra interfaccia i bottoni eccoli qua questi tastini grigi seleziono uno vado a posizionarlo dentro nel palnello comandi e questo lo chiamo play e diciamo che lo mettiamo a sinistra ok dentro play cosa mettiamo doppio clic tasto premio va bene associamoci l'immagine di solito l'immagine è quella della freccetta verso destra questa qui basta cliccarla e qua mi mette l'immagine della freccetta poi abilitato si d'accordo e che cosa fa questo tasto quale action fa beh qui posso scriverla se me la ricordo oppure andare a selezionare il secondo bottone questo degli ingranaggi mi dice tutte le azioni possibili seleziono ovviamente la prima quella play eccola qua qui chiudiamo mettiamo un altro bottone stessa procedura qui lo mettiamo il bettone che lo chiamiamo pausa lo mettiamo al centro va bene doppio clic su pausa l'immagine che associa è quella della barra doppia barra verticale di solito indica la pausa appunto e abilitato si e quale azione intraprende beh questo mette in pausa quindi il secondo proprio andiamo a cliccare sul meglio ingranaggi qua a fianco chiudo terzo bottone riavvia il reset qui lo mettiamo a reset ok lo mettiamo a destra d'accordo e questo cosa fa doppio clic andiamo sempre su abilitato si ok l'azione anche qui vado a cliccare sul secondo tasto questo non l'editor ma quello dei comandi possibili quello con l'ingranaggio vado a selezionare reset e quindi riporta la simulazione proprio all'inizio e l'immagine è quella della freccetta riavolta eccola qua quella che torna indietro d'accordo qui vedete come si presenta adesso la cosa i comandi sono i bottoni sono un po' sproporzionati per fare in modo che siano proporzionati vado su pannello comandi e anziché layout border clicco sull'editor sul primo tastino e metto layout a griglia con una riga e tre colonne e qui spaziate clicco su ok e già l'aspetto è più umano d'accordo dopodiché torniamo invece su model e andiamo a togliere il tasto autoplay in questo modo quando la simulazione si avvia non va in run automaticamente salviamo mandiamo in esecuzione tasto freccetta verde ecco che la simulazione parte però adesso la barra verde rimane dov'è perché è in pausa cioè non c'è l'autoplay per fare l'autoplay vado su play clicco una volta e questa comincia a cadere vado su pausa metto in pausa la resetto la riparto pausa posso resettare e di nuovo play ok d'accordo qui un'altra cosa che dobbiamo fare prima di chiudere per oggi è questa quando vado in play la vara continua a cadere come se avesse spazio infinito sotto io vorrei che si fermasse ad esempio quando arriva al bordo del nostro circuito AU allora devo mettere un controllo che dica alla simulazione di andare in pausa quando la vara orizzontale è caduta fino al limite inferiore del nostro circuito per far questo torniamo sul nostro area di lavoro clicco sul pulsante rosso per fermare il rango della simulazione e vado su model in model nelle fixed relations inseriamo un controllo della posizione un commento controlla la posizione della barra gli dico appunto se la y è caduta troppo in basso se la posizione è troppo in basso metti in pausa la simulazione per far questo o mi ricordo esattamente la sintassi java oppure uso un'abilità una risorsa che ejs mette a disposizione che è questa quel pulsante destro del mouse lo clicco una volta e vado su open code wizard cioè apri il maghetto della programmazione e che mi dà tutte le strutture possibili di java la prima su cui mi propone la if cioè la condizione una if mi va bene clicco su ok e me la scrive lui con tutte le sintassi corrette io devo solo cambiare la parte in rosso quindi if questa la togliamo e diciamo se la y è inferiore di minore di cosa potrebbe essere meno h per esempio allora va in pausa ricordate che la pausa era l'underscore pause parentesi aperta chiusa punto e virgola quindi in questo modo che cosa succede se prima che la cosa sparisca la la simulazione va in pausa non posso mettergli stop perché altrimenti chiuderebbe tutto mentre in pausa rimane attiva saldiamo mandiamo in esecuzione ok facciamo un run play la barra cade 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 a un certo punto si ferma perché è andata sotto meno h e quindi a quel punto lì la base si ferma la nostra simulazione va in pausa possiamo risettare farla ripartire tutte le volte che vogliamo però stavolta la barra rimarrà sempre invisibile cioè una volta che arriva a terra per capirci si ferma ok bene fermiamo la simulazione nella prossima lezione completiamo inserendo alcune cose importanti che sono un pannello che ci dica quali sono i valori delle grandezze fisiche coinvolte quindi quanto vale t quanto vale y la velocità in y l'accelerazione e soprattutto ancora più importante un modo per cambiare i valori ad esempio della massa della barra della resistenza o del valore del campo magnetico e quindi calcolare tau aggiornato e poi un pannello aggiuntivo grafico dove andremo a far tracciare a EJS i grafici in funzione del tempo di posizione velocità e accelerazione ok per oggi ci fermiamo qui grafico e grafico a grafico Grazie a tutti.